Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, oggi ho un video perché sono entrata a far parte dell'applicazione Kiss & Tube che troverete anche su Youtube ovviamente e questa applicazione è fantastica veramente, ora vi faccio vedere questa è l'icona ovviamente sul telefono e come potete vedere vi apparirà questa schermata dove ci sono musica, cinema, altro e amici e qui sarà possibile nelle varie playlist scegliere quello che voi più preferite, quindi musica estate 2015, classifiche, colonne sonore, canzoni d'amore, musica classica, è tutto classificato per genere quindi è facilissimo anche andare a cercare quello che ognuno di noi preferisce e lo stesso è per il cinema quindi c'è la lista dei mille film, poi sono suddivisi in fantascienza, musical, documentari, comici, horror, western e quant'altro. Altro troviamo teatro, pubblicità e tante altre cose, cucinare, insomma make up, cioè veramente di tutto, anche informatica e è veramente un'applicazione velocissima, funziona alla grande e trovo che sia veramente molto utile. Cliccando su amici potete trovare le Youtuber e proprio in questa sezione ci sono anche io, eccolo qui, Michela P. e ovviamente basta cliccare sul mio nome e si aprirà il mio canale Youtube con tutti i miei video. Trovo che questo sia veramente fantastico, sono felicissima di essere entrata in questa applicazione e vi ricordo come al solito che sotto nell'info box troverete tutti i link dell'applicazione dove scaricarla che per ora purtroppo si può scaricare soltanto su Google Play i sistemi operativi Android, ma questo solamente per poco, al più presto sarà disponibile anche per gli iPhone e quindi sarà possibile scaricarla su Google Play e vi lascio tutti i link comunque sotto nell'info box e vi ricordo anche di iscrivervi sul loro canale Youtube perché hanno creato veramente un'ottima applicazione. Io le ringrazio di cuore per avermi permesso di entrare in questa app e ringrazio tutti voi per la visualizzazione. Un bacione e al prossimo video. Ciao a tutti!